Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori. Siamo qui in questo meraviglioso posto a Zagarolo. È il Museo del Giocattolo. Penso che sia uno dei pochi, se non l'unico in Italia, con una persona molto interessante. Vediamo un po' con chi abbiamo il piacere di parlare. Salve, io sono Claudia Pizzi e sono del CDA dell'Istituzione di Palazzo Rospigliosi. Sono qui da circa cinque anni, da quando c'è stato appunto il rinnovo del Comitato di Amministrazione e con le ultime elezioni, quando è stato fatto sindaco il dottor Lorenzo Piazzai. Questo museo risale al 2005, la nascita è ad allora. È un museo demo-antropologico, tutto sul giocattolo e sui giochi soprattutto, anche giochi. In questo museo vengono svolte tantissime attività, mostre monotematiche e non. E, che dire, un invito a chi vede questo nostro spot a visitarci. Zagarolo è un paese molto piccolo, ma siamo molto accoglienti. Vengono fatte durante tutto l'anno delle attività. Vengono scuole da tutta Roma, si prenotano e fanno un percorso per stimolare la creatività dei bambini con piccole cose, cioè la creazione di un giocattolo con le cose che troviamo giornalmente nelle case. Dalla bottiglia al rotolino di carta igienica, per dire, no? È quindi una stimolazione della fantasia e un percorso anche molto ecologico, direi, dal punto di vista della manifattura. Quindi un laboratorio di riciclo per creare qualcosa di interessante che alletti un po', ecco, appunto, la creatività. Sì, sì, esattamente questo. Il riciclo è veramente la parola giusta per le attività che svolgono le ragazze del museo. Ho il piacere di presentare ai nostri ascoltatori e telespettatori l'assessora alla cultura, nonché vice sindaco di questo meraviglioso paese. Buongiorno, sono Emanuela Panzironi, assessora alla cultura e vice sindaco di Zagarolo. Innanzitutto benvenuti nella nostra dimora storica, nel bellissimo Palazzo Rospigliosi. Siamo onorati di essere stati riconosciuti dalla Regione Lazio, una delle dimore storiche. E proprio, diciamo, per questo siamo molto attivi sul territorio e lavoriamo molto in collaborazione con tutte le iniziative della Regione Lazio. Beh, questo è veramente una bellissima cosa. Io vi faccio i miei complimenti, sia per come tenete questo posto incantevole, ma anche per il paese, perché sembra di entrare in un posto incantato, magico. Sì, in questo periodo soprattutto noi stiamo lavorando alle attività che inizieranno con l'inaugurazione proprio sabato 7 dicembre a questo meraviglioso Natale. Per noi è un Natale delle meraviglie, Zagarolo delle meraviglie è proprio il titolo che abbiamo dato a tutto il mese che sta per aprirsi. E ci saranno molte, molte iniziative, soprattutto anche grazie, ripeto, a questo meraviglioso palazzo storico, che è un palazzo vivo, perché grazie al Museo del Giocattolo, all'istituzione Palazzo Lospigliosi, è sempre molto ricco di attività. E in occasione del Natale, insomma, al Museo del Giocattolo si presta benissimo a ogni tipo di iniziativa. Noi ringraziamo e ci godiamo questo Natale. Grazie, grazie a voi per essere venuti soprattutto a trovarci. Bene, abbiamo intervistato alcuni personaggi in questo bellissimo posto. Adesso andiamo a sentire Federica. Buongiorno, buongiorno carissima. Allora, ci si ritrova dopo tanti anni, quasi per magia, in questo Natale qui a Zagarolo. Sì, con immenso piacere che ti ritrovo e vi ritrovo tutti quanti. Siete arrivati in un posto bellissimo che è il Museo del Giocattolo. Ci troviamo appunto a Zagarolo e questo museo esiste in forma permanente dal 2005. Prima erano solo esposizioni temporanee. Poi questa cosa è andata avanti e quindi è diventato un museo a tutti gli effetti. Due sale in particolare cambiano ogni 3-4 mesi. Quest'anno abbiamo deciso di dedicarle tutte al nostro amico Antonio Russo, il collezionista più grande di Barbie, almeno in Italia, che abbiamo. E lui ci ha fatto questo magnifico regalo di dedicarci tre mostre temporanee dedicate appunto a Barbie. Siamo qui a fare una cosa incredibile. Per un anno intero il museo ha fatto una mostra dedicata a Barbie che quest'anno ha compiuto 60 anni. E adesso siamo all'ultima tappa, all'ultimo appuntamento con questa mostra, dove dopo aver mostrato Barbie come era e chi era, come si poteva giocare, ora vediamo come si colleziona e quali sono gli oggetti da collezione. È una mostra faraonica immensa, abbiamo messo in piedi quasi 300 pezzi. La mostra sarà visibile fino a marzo, quindi tutto il periodo di festa e fino a marzo. Beh, veramente una bella cosa. Non se ne trovano, diciamo così, di mostre tutti i giorni e in qualsiasi luogo. La soddisfazione del cliente è il nostro obiettivo. Aton è una cooperativa sociale che opera nel settore dei servizi per la pubblica amministrazione e per le aziende. Un team giovane e motivato. La nostra missione è creare lavoro. La nostra esperienza è a disposizione per risolvere tutti i problemi connessi alla vostra attività. Lavoriamo con voi per la manutenzione del verde, la gestione dei giardini, le installazioni di prato, arrotoli e impianti di irrigazione, impianti di allarme e videosorveglianza, servizi di pulizia e piccole manutenzioni, facchinaggio e traslochi.